Grazie Presidente. Intanto ci tengo a ricordare che questo tema è sicuramente un tema fondamentale e noi crediamo di aver affrontato e collaborato al tavolo di lavoro nonostante la nostra posizione sull'ordine del giorno in maniera costruttiva, nonostante ci siano dei passaggi che come voi sapete non sono assolutamente condivisibili per noi. Ci tengo però a partire con una premessa. Noi non stiamo facendo i sindacalisti della Regione come qualcuno ha detto anche perché a leggere bene la proposta di Renzi per i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che si sono candidati per la prima volta alle scorse elezioni non cambierebbe nulla in termini economici cosa che invece potrebbe toccare qualcun altro. Quindi non lo facciamo di certo per quello. Semplicemente però ci siamo candidati in Regione perché crediamo nell'ente, crediamo sia importante avere un'istituzione così vicino al territorio e soprattutto che possa davvero intervenire nella vita delle persone nonostante non siamo mai in grado di far capire che cosa veramente la Regione fa per i cittadini. Noi non condividiamo questo sistema che sta proponendo questo dittatore mascherato da Premier. Insomma noi non tolleriamo questa devoluzione allo Stato di tutto il coordinamento della finanza pubblica. Non tolleriamo la clausola di supremazia altrimenti cosa stiamo qua a fare in Regione? A fare un qualcosa che poi ogni volta qualcun altro decide di annullare, non considerare, superare quant'altro e non lo tolleriamo. Sicuramente bisogna fare delle riflessioni, bisogna fare in modo che si possa andare a rivedere e rimodulare la ripartizione delle competenze tra gli enti, sicuramente, però non con la superficialità con la quale viene affrontato il tema oggi e con la superficialità con la quale è stato affrontato il tema delle province. Perché insomma oramai dopo Berlusconi è arrivato qualcun altro che pensa più agli spot elettorali che non veramente al benessere per i cittadini. Perché diciamocelo, queste riforme non daranno da mangiare qualcosa in più ai cittadini, queste riforme non permetteranno di dare un posto di lavoro in più a nessuno. Anzi, il Senato dicono che lo tagliano per diminuire i costi, in verità tutti i dipendenti rimarranno lì, semplicemente si abdica la democrazia in nome di una semplicità normativa o quant'altro. Insomma io ci tengo a ricordare che i governi decretano quando in verità il decreto è considerato uno strumento d'emergenza da utilizzare qualche volta. Noi ci teniamo a ricordare che noi viviamo in una Repubblica parlamentare, invece qualcuno sta cercando di trasformarla in una Repubblica presidenziale. Però ricordiamoci, allora il Senato servono tagli, bene, non è operando con questa soluzione che si risolvono i problemi. Diminuiamo il numero dei senatori, diminuiamo i costi, gli stipendi, i soldi a disposizione, i fondi dei gruppi, perché oggettivamente si deve fare. Però non bisogna assolutamente mettere da parte la democrazia. Il collega Gallera prima diceva il bicameralismo, va rivisto, è un tema delicato. Beh io non ne sono così convinto. Non ne sono così convinto perché il bicameralismo oggettivamente, l'articolo 72 della Costituzione, ci permette di operare in un modo che può essere anche costruttivo. E non ci si venga a dire che il problema è che è lento come strumento, perché quando fu fatto l'Odo Alfano, indipendentemente da tutto, furono utilizzati soltanto 20 giorni. Quindi il problema è, visto che qua qualche politico più esperto di noi evidentemente c'è, serve la volontà del fare le cose. Invece ogni volta che si mette mano a qualcosa, ognuno vuole portare avanti le sue pedine. Non è mai nell'interesse dei cittadini, ma per tutelare delle posizioni. E questo lo troviamo, quanto mai, insomma, vergognoso. Senza dimenticare il fatto che il Senato oggettivamente era stato studiato dopo una guerra. Quindi evidentemente era stato un periodo della storia italiana, nella quale era stata abdicata la democrazia a qualcun altro, al soggetto salvatore della patria. Un qualcosa che io rivedo ultimamente nell'uomo delle slide facili. Ecco, ricordiamoci che la nostra Costituzione è stata scritta dopo un periodo nel quale i cittadini avevano vissuto cosa significa davvero la fame. E quindi c'era uno spirito di comunità e c'era una voglia di preservare la democrazia. Il Senato oggettivamente ha un meccanismo virtuoso che è in grado di ponderare adeguatamente delle scelte complesse. Quante leggi sono state bloccate in una delle due camere? Perché la prima faceva una cosa un po' alla Carlona per essere molto eleganti e dall'altra parte c'era una correzione. È stata studiata in un certo modo. Oggi noi invece vogliamo passare sopra questo sistema. Vogliamo fare in modo che ci sia una persona che possa avere su di sé tutto il potere, tutto il potere, e lo sta togliendo anche le regioni, per poter far cosa, comandare senza poter pensare ai cittadini o quant'altro. Ecco, io vorrei dire anche che neanche Berlusconi, che noi abbiamo sempre combattuto, era mai arrivato a tanto. Ci aveva provato, ma non aveva mai avuto la capacità o la volontà di esagerare. E secondo noi questo dà la sensibilità della situazione. Quindi, insomma, forse bisogna intervenire in maniera diversa. Ci tengo anche a ricordare che l'unica forza politica che ha difeso la Costituzione, che poi tutti in piazza vanno a raccontare e difendere, è stato il Movimento 5 Stelle, che ha difeso l'articolo 138 della Costituzione, che questo governo attualmente in carica voleva assolutamente modificare per intervenire senza grossi problemi nelle modifiche costituzionali. Quindi, bypassando quel sistema di lucchetto democratico che era stato costituito anni fa. Ma noi queste cose ce le dimentichiamo? Queste cose non le guardiamo? Qualcuno, quando gli abbiamo detto che questa riforma è scandalosa, ci ha detto «Eh, ma tengo famiglia». Cioè, ognuno di noi pensa a se stesso. E non lo riteniamo un atteggiamento corretto e responsabile nei confronti delle future generazioni. Mi sembra veramente una cosa, anzi, alquanto pericolosa. È inutile che si sghignazzi, perché potremmo anche fare i nomi, ma non ci sembra carino. Però facciamo anche una riflessione. Perché oggi le regioni sono nel mirino? Qualcuno di voi evidentemente ci ha messo del suo. Qua sappiamo benissimo le spese pazze. Voi raccontate ovviamente che i giornali hanno esagerato e quant'altro. Però di soldi buttati ce ne sono stati tanti. Di opportunità per sparare sull'ente regione ne sono stati dati tanti. Non dimentichiamoci anche degli arresti eccellenti, recenti. Perché quando ci sono dei soldi non riusciamo mai a gestirli in maniera corretta. Ma semplicemente dobbiamo cercare di fare un po' la cresta. Ecco, non ci sembra un atteggiamento corretto da parte di chi deve amministrare il bene la nostra regione. Ecco, la Lombardia non è di certo esente da questi tipi di scandali. Però, ripeto, noi siamo preoccupati per questo accentramento di potere. Preoccupatissimi. Ci teniamo però a sottolineare il fatto che non tolleriamo nemmeno che per far passare queste riforme oggi a Roma qualcuno sia stato disponibile, sia stato disponibile per far tenere un accordo di maggioranza o un accordo per le riforme, di far diminuire, depenalizzare il reato, anzi la pena per gli accordi e gli scambi politico-mafiosi. Questo è un sistema, questo è stato fatto a Roma per cercare di far mantenere, per far mantenere una riforma che deve passare. Questo è evidente. Assolutamente, sono stati fatti a quattro anni. 416 terzo. Detto questo. Colleghi, per cortesia. Posso continuare, Presidente? Consentite al Consigliere Buffagni di terminare il suo intervento, per cortesia? No, noi non barattiamo la democrazia, insomma, con queste cose. Poi, per l'amor del cielo, possiamo stare qua a giocare sulle parole, ma oggettivamente quattro anni nel 416 terzo l'abbiamo messo noi, anche perché era stato fatto, anche perché era stato fatto, era stato trovato un accordo al Senato, visto che c'è il bicameralismo attualmente, era stato fatto un accordo al Senato dove la maggioranza è più debole, dove la maggioranza è più debole, che prevedeva un certo quantitativo di anni. È arrivato alla Camera dove la maggioranza è chiara, chiara, ed è stato diminuito il numero di anni. Poi sicuramente, io vedo quelli del PD tranquilli, voi non so cosa, evidentemente siete più agitati, però, ma benissimo, ci insegnerete voi, non è un problema. Consigliere Buffagni, si rivolga al Presidente, grazie. No, per quanto riguarda il tema invece della Regione, del residuo fiscale, è sicuramente un problema, bisogna discuterne. Io voglio che i nostri cittadini vengano messi in condizione di poter usufruire maggiormente delle risorse che generano sul territorio, però, evidentemente, visto che c'è questo tema, si può anche valutare l'ipotesi, come avevamo già detto, di gestire in maniera diversa i fondi europei che possono arrivare in concambio, perché in tante regioni d'Italia i fondi europei non vengono utilizzati. Quindi si potrebbe anche valutare l'ipotesi a livello nazionale di poter dirottare quei fondi dove sono maggiormente produttivi, in modo tale che i benefici che si generano dall'utilizzo di quei fondi possano continuare a essere ripartiti in maniera equilibrata, in modo che nessuno rimanga indietro come davvero è. Quindi noi, ripetiamo, siamo sicuramente spaventati da questa deriva, siamo spaventati del fatto che oggettivamente, Presidente, lei difende la Regione, ma lei sa meglio di me che la forza politica che oggi lavora con il Presidente del Governo Renzi, insomma, è NCD che lei rappresenta e che sta andando avanti per questa strada. Quindi noi quello che chiediamo è un minimo di coerenza della forza politica e del partito. Non può utilizzare una strategia qua e usarne un'altra a Roma, perlomeno c'è un'altra forza politica che è in maggioranza, che evita di fare due pesi e due misure. Stessa cosa, lo stesso invito lo poniamo a Forza Italia, che oggi giustamente si batte per difendere la Regione, ma forse è il caso che lo vada a comunicare anche ai suoi deputati e senatori a Roma, che invece, appunto, difendono i fondatori di questo partito del 94, barattando qualsiasi cosa per salvare la loro vita, dimenticandosi dell'importanza dei cittadini. Chiudiamo ricordando che secondo noi queste decisioni non si possono prendere chiusi in alcune stanze. Non è tollerabile, secondo noi è fondamentale coinvolgere i cittadini in queste decisioni così importanti, come fu fatto anche in passato, perché in passato fu fatto un referendum per questo tema, per dare più potere alle Regioni e ai Comuni, quindi non è che l'abbiamo deciso noi o l'ha deciso chi ci ha preceduto, di conseguenza riteniamo sia fondamentale coinvolgere i cittadini sia su questi temi, spiegargli cosa la Regione fa, perché non bisogna demandare e centralizzare di nuovo tutto e sentire cosa ne pensano. Grazie.